L'unità è un pezzo importantissimo anche se come dicevi tu, certamente mettere insieme i capelli bianchi e i capelli rasta a volte è difficile ma per adesso ci stiamo riuscendo alla grande. Giovedì trovo nella cassetta della posta un avviso per ritirare una lettera raccomandata. Il giorno dopo si va in posta e trovo questa lettera che già martedì aveva un esproprio. Sono molto soddisfatto per la reattività di tutti questi ragazzi giovani che ci stanno aiutando in una maniera veramente incommiabile. Auguriamoci che tutto questo dissenno venga bloccato. È l'unica speranza che possiamo avere. per tutti è il primo che pensi domande. Per tutti i nostri no che sono stati sì. Siamo tutti d'accordo a dire Siamo tutti d'accordo a dire Siamo tutti d'accordo a dire Let's Go. Siamo rimasti umani e non abbiamo trucchi, dai e forte, dai e sempre, dai e tutti Noi abbiamo la poesia in un mondo di morti, abbiamo accesso luci, cambiato le sorti Si è formato un gruppo di persone che ha iniziato a vedersi e si continua a vedere costantemente con una finalità sola che è quella di fermare appunto il terzo valico